Eccolo Hugh Tyndall direttamente dall'Arizona in compagnia della moglie, della sorella e del cognato. Si tratta del pronipote di Felicina Marais, abitante appunto negli Stati Uniti ma dopo essersi trasferita da Santo Stefano, dove era nata nel 1867 e dove aveva due fratelli e due sorelle. Hugh conserva ancora la foto della bisnonna che nel 1947 era tornata in Italia, ovviamente a Santo Stefano Daveto, per l'inaugurazione della statua della Madonna di Guadalupe sul Monte Maggiorasca. Lo scorso marzo ha scritto un messaggio sulla pagina Facebook dello Sciclab di Santo Stefano, chiedendo aiuto per ritrovare lontani parenti ancora in vita. Recepito dal vicepresidente Marco Pinate, il messaggio ha fruttato questo viaggio odierno alla riscoperta delle origini. Il programma ha previsto l'incontro con i parenti Mario Devaristo Marais e Italo e Franco Monteverde, la visita in comune a Santo Stefano, colti dal vice sindaco Mario Chiesa, poi rinfresco al bar Pasticceria Marais e la salita in seggiovia al Prato della Cipolla. Sono felice di essere qua, che il posto è molto bello e che lo ricorderà per sempre. Vi faranno adesso un giro su con la seggiovia e con alcuni dei suoi parenti e poi trascorreranno tutta la giornata qua a conoscere ancora le sue origini e quello che è rimasto della sua famiglia.